Polotto, numero dieci, dieci, stiamo andando a grandissimo ragazzi, vai numero dieci, andiamo alla dieci, ciao, come ti chiami? Anna, Anna, Anna da noi vieni? in provincia di Rovigo, cosa fai a livello della vita? un'impiegata in banco, wow, un bevetti, sono di quelli che gli dà o che gli prende i soldi? ok, si occupa di organizzazione, bravissimo, come vorresti un uomo ideale? un uomo complice, ragazzi ci vuole complicità, bisogna guardarsi